La capazione. Da questo punto, tubo in terza, faccio un passaggio da questo lato, in terza e in terza, da qui e da qui tiro, ok? Però, quando ho fatto una capazione, la capazione è vera e l'intento. Allora cosa faccio? Inizio, mi svincolo con l'attacco, in guardia. Al prossimo episodio